freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance direi che cominciamo cominciamo a chiamata improvvisata perché ovviamente l'ordine di tutti i talk è partito e quindi scelgo io arbitrariamente giuliana partiamo subito dalle cose toste così dopo ci togliamo il pensiero e parliamo del cliente tossico allora io mi sento un po in colpa ad aprire la giornata con un talk diciamo su cose non tanto piacevoli però penso che ce ne sia bisogno allora innanzitutto che cosa intendo per cliente tossico il cliente tossico non è un cliente che si fa di sostanze ma è un cliente che è tossico per noi tossico proprio nel senso che dopo un po rende molto difficile prima ci rende molto difficile poi proprio impossibile lavorare e soprattutto quest'azione ha delle conseguenze proprio sul nostro modo di sentirci sul nostro modo di sentirci professionisti ora io lo so che un sacco di persone qui diranno a me non può capitare questa cosa perché io lo riconosco un cliente quando è potenzialmente tossico e quindi me ne libero prima allora io lo spero molto però voi avete presente la pubblicità di prostamol allora pubblicità di prostamol è uno spot che ormai in giro da un sacco di anni in cui c'è un signore che ha dei problemi di prostata ma che è molto imbarazzato di questa cosa e quindi si alza più volte durante la notte per fare pipì ma tutte le volte che torna a letto si inventa una scusa cioè si vergogna un po di questa cosa ecco e secondo me un po noi abbiamo questo questo atteggiamento perché un po ci vergogniamo perché appunto avere a che fare avere avuto un'esperienza di cliente tossico è una cosa che un po depone male sulla nostra professionalità noi dobbiamo avere in fondo delle vite un po pettinate per linkedin per instagram per il mondo in generale per i nostri clienti e quindi ammettere di aver avuto una un momento pesante è una missione complicata da fare in realtà in realtà il problema è che il cliente tossico può capitare a tutti può capitare perché non se è tossico davvero non lo riconosciamo immediatamente quindi ci mettiamo un po e se ci mettiamo un po entriamo comunque in una spirale che è una spirale pesante io scusate mi sono portati due appunti perché ho un'età quindi insomma non ce la faccio così tanto e soprattutto cosa succede quando la tossicità si manifesta quando noi davanti ad una persona che sta per diventare nostro cliente e di cui sentiamo che non avremmo piacere a frequentarla non avremmo piacere ad andarci a prendere un aperitivo però comunque diciamo ok è lavoro il lavoro si fa la mia professionalità mi consentirà di fare questo lavoro la mia esperienza mi consentirà anche di gestire una situazione negativa e quindi io riuscirò a starci dentro ecco se il cliente tossico veramente questa cosa non ci riusciamo a farla in realtà perché appunto è una rete molto 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 vischiosa non solo queste convinzioni iniziali dopo ci daranno due problemi che quello intanto di sentirci male perché non siamo stati in grado di gestire la situazione e poi di sentirci male anche perché non siamo stati in grado di valutarla immediatamente e quindi di dire subito no questa cosa non andava bene e come facciamo a riconoscere un cliente tossico prima di tutto i soldi quello è comunque un tema importante e non è allora può essere quello che non paga se non paga però abbiamo un indizio forte e se non paga poi sta a decidere di liberarci comunque uno che tira tanto sul prezzo e tira sul prezzo o perché dicendo che non ha budget banalmente oppure sminuendo l'entità del lavoro o l'entità e l'importanza e il valore del lavoro che noi ci apprestiamo a fare per lui di solito questo secondo quest'ultima versione una cosa che poi viene fuori col tempo non emerge immediatamente quindi una cosa un pochino un'altra cosa che fa il cliente tossico è di chiedere cose che noi non facciamo ieri abbiamo parlato tanto di preventivi no in cui dobbiamo decidere tutte le cose che facciamo e la verità è che il cliente brutto lascia delle aree grigie di cui noi non ci rendiamo conto immediatamente e sono delle aree grigie nelle quali poi lui ci incastrerà perché perché non è chiaro sui suoi obiettivi non è chiaro sugli obiettivi del nostro lavoro anche se noi li abbiamo scritti e noi li abbiamo scritti li abbiamo concordati ma poi verrà fuori qualcosa perché la quotidianità è diversa dal preventivo questo penso che l'abbiamo vissuto tutti no una cosa è quello che scriviamo una cosa è quello che poi davvero dobbiamo fare quindi teniamo conto che quando si manifestano aree grigie quando iniziamo a non capire più bene quali sono gli obiettivi ecco questo è un campanello d'allarme perché vuol dire che in quel momento c'è una volontà che è diversa dalla nostra che sta andando in una reazione che noi non siamo in grado di intercettare e non ci possiamo parlare cioè possiamo continuare a provarci ma la verità è che continueremo soltanto ad incastrarci sempre di più in questa cosa un'altra cosa che dice per esempio che non ha le risorse che aveva dichiarato di avere e quindi noi partiamo facendo una cosa sapendo che poi ci sarà qualcun altro che la prendere in mano e poi questo non succede a quel punto cosa fate anche lì no c'è un tema di professionalità cosa faccio mi che lo lascio continuo a fare anche delle cose che non avevamo concordato però quello non va bene non va bene perché poi questo significa anche che questo signore qui non avrà rispetto dei nostri tempi né per quelli che avevamo concordato né dei nostri tempi in generale perché ci manderà le mail il sabato pomeriggio perché ci manderà whatsapp nel cuore della notte perché a me è capitato questo qui che mi chiamava il sabato sera mentre stavo cenando e se gli dicevo che stavo cenando lui si metteva a ridere facendo passare l'idea che fosse poco professionale il fatto che avessi l'abitudine di mangiare e queste cose sono veramente dopo un po' lavorano e lavorano e ci rendono sempre più difficile stare dentro questa cosa perché alla fine c'è un problema naturalmente chiunque vi dirà quando trovate un cliente così ve ne dovete liberare il più presto possibile assolutamente sono assolutamente d'accordo non è così facile però non è così facile ma non per una questione contrattuale non è così facile perché innanzitutto per i soldi perché spesso questi clienti qua sono clienti che assorbono tantissimo del nostro tempo e delle nostre risorse e quindi non è detto che noi da un giorno all'altro possiamo dire ok rinuncio a questi soldi qua perché non ne posso più ieri si è parlato tanto anche di esaurimento nervoso se ne è parlato però in relazione ad un apporto da dipendente in realtà questa cosa succede anche da freelance è inutile che ci ecco magari senza arrivare all'esaurimento nervoso però come dire è una situazione molto pesante lo sappiamo tutti che può arrivare a delle conseguenze anche non piacevoli anche proprio dal punto di vista dal punto di vista fisico l'altra cosa è che appunto quella di questo tipo di cliente non è una ruota del criceto a volte abbiamo la sensazione di essere una ruota del criceto continuiamo ad andare e non andiamo da nessuna parte questa è una ragnatela cioè più noi ci muoviamo e più in realtà ci incastriamo dentro la situazione più diventa sempre più difficile liberarsene quindi anche dire ce ne liberiamo non è esattamente una cosa semplice io ho avuto fortuna perché sono arrivata alla fine del contratto e a quel punto ho detto ok basta non lo rinnoviamo però anche là il problema qual è? il problema è che si è dedicato tanto tempo e tante risorse banalmente non hai fatto new business in quel periodo o comunque ne hai fatto molto meno di quello che ti serviva per andare a compensare quell'incarico lì e quindi dopo devi ricominciare quindi quando andiamo a ricominciare ecco io ero distrutta durante questa esperienza e anche alla fine in modi diversi durante perché non mi sentivo all'altezza perché dicevo ma com'è possibile questo mi faceva disperare avevo dovuto disattivare le notifiche di qualunque cosa perché era impossibile questo davvero mi chiamava in continuazione e quando è finita il problema è stato appunto fare conti con quello che questa cosa significava per me sono 25 anni che faccio questo lavoro possibile che non sono stata capace di rendermi conto di quanto fosse impossibile gestire questa perché era davvero impossibile e possibile che io non sia stata quindi non sono stata in grado di gestirla e questo è un problema non sono stata in grado di rendermene conto e questo è un altro problema quindi tutte queste cose sono diventate poi una cosa molto pesante da gestire io cosa fai? ovviamente non ho ricette perché sarebbe bello insomma poi io non sono una di quelli bravi che hanno tutte le ricette per fare le cose io ho fatto però prima di tutto una cosa ho scritto una mail lunghissima ad una persona a cui voglio moltissimo bene e che dal punto di vista professionale stimo moltissimo e scrivere questa mail mi ha aiutato anche solo scrivere mi ha aiutato a mettere in fila le cose e mi ha aiutato quindi a guardarle in un modo molto molto oggettivo quindi avere poi modo naturalmente poi mi sono confrontata con questa persona che in buona sostanza mi ha detto non sei una pazza che era la cosa che avevo bisogno di sentirmi dire in quel momento e poi ho iniziato a fare delle cose che per esempio cose che avevo rimandato per tanto tempo che non avevo mai fatto un corso di scrittura creativa un corso di scrittura autobiografica cioè tutte cose che in qualche modo mi hanno costretto a ritornare su di me e poi ho letto ho letto tantissimo e ho letto tutto quello che era possibile leggere per non farmi sentire sbagliata che era la cosa che mi stava veramente massacrando in quel momento secondo me è importante parlarne di questa roba perché appunto dietro le nostre vite pettinate ci sono delle vite vere che si consumano magari in cucina o la notte senza riuscire a dormire con l'occhio sbarrato perché pensiamo a queste cose io ovviamente auguro a chi ha già avuto l'esperienza di non averla più a chi non l'ha avuta di non averla mai però ecco tutto quello che vi posso dire se vi capita parlatene perché secondo me è l'unico modo per saperne di più visita il sito www.freelancecamp.net e iscriviti alla newsletter riceverai subito 6 lezioni per diventare freelance migliori una raccolta di alcuni fra i talk più interessanti e utili del freelance camp e iscriviti al nostro canale